Oh, bella frate, allora com'è? Eh, oddio, sei finito di nuovo in botta, forza ti riporto a casa io. Hey tu, sì, proprio tu, ho scoperto un metodo infallibile per curare le calvizie, scopri come premendo qui. Buongiorno, mi dico... Sì, vorrei un'insalata e il conto, grazie. Grazie mille, buona giornata. Buongiorno, cosa desidera? Sì, allora, facciamo 10 ca pesante, un po' di caviale, un filetto di tonno rosso del Mar Nero, una ragosta blu e 14 tartuffi. Ah, e mi dico anche l'insalata del signore là, grazie. Ma che cazzo... Amore, devo farti una confessione. Ti prego, non dirmi che sei incinta. Sì, ma... No, cosa ho fatto di male? Eh, aspetta, non ho finito, non sono incinta di te, ti ho tradito. Oh, you touch my ta-la-la. Oh, mio Dio, frate, ti stai evolvendo! Vai così, non vedo l'ora! I miei occhi!